Grazie Presidente. La nostra mozione tende innanzitutto a sottolineare quanto sia importante nell'ambito della giustizia la tutela delle vittime del reato, quanto importante sia avere una giustizia realmente giusta che consegue l'obiettivo di condannare i responsabili dei reati, quanto importante sia mantenere gli strumenti investigativi efficaci, quelli che consentono realmente di combattere la corruzione come le mafie, come tutti gli altri reati e l'illegalità credo che sia un male che necessariamente deve essere contrastato da tutti, innanzitutto dalla politica Presidente, sì, dalla politica. Credo che la politica in questo debba mostrare la propria etica, non pensare al contrasto e all'illegalità significa non avere quella morale necessaria che consente all'Italia di contrastare una illegalità diffusa. La difesa dei diritti fondamentali dell'individuo non può non passare, come dicevo, anche attraverso l'attenzione che il legislatore pone nei confronti delle vittime dei reati. La tutela dei soggetti deboli trova fondamento nel principio di uguaglianza. Signori, se parlate io sento parlare e quindi vi chiederei di dire a chi parla di non parlare. La tutela dei soggetti deboli trova fondamento nel principio di uguaglianza ed è nell'ambito del diritto e del processo penale che la tutela delle vittime va garantita maggiormente. La giurisprudenza diffusa a livello europeo impone agli Stati membri di adoperarsi affinché il procedimento penale si svolga con modalità tali da garantire anche il coinvolgimento e la soddisfazione dei diritti delle vittime. Si tratta dei cosiddetti obblighi procedurali che prevede la Carta dei diritti dell'uomo agli articoli 2 e 3, questa carta prescrive che gli Stati si adoperino per garantire lo svolgimento di indagini effettive e idonee ad accertare i fatti reato, anche in prospettiva di tutela e di ristoro della vittima del reato. L'espletamento di indagini ufficiali, approfondite, trasparenti, celeri, imparziali, che in caso di accertata colpevolezza possano condurre, all'esito del processo, ad applicare sanzioni proporzionate alla gravità del fatto commesso. Ecco, la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo pone a carico dello Stato, a carico dello Stato e quindi del nostro Stato, la predisposizione di una normativa adeguata a perseguire gli individui responsabili di violazione e a garantire protezione a soggetti vulnerabili, quali minori, le donne, i detenuti, i richiedenti asilo. Sì, i richiedenti asilo. E guardi, non lo sto dicendo io qui per il fatto dei migranti, ma lo dice la stessa giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, tenendo conto del loro specifico grado di vulnerabilità, della natura e gravità della lesione subita o minacciata. Non di rado molti Stati sono stati condannati dalla Corte di Strasburgo e anche l'Italia, ripetutamente, in quanto considerati responsabili per non aver predisposto o attuato nel caso concreto una specifica tutela penale dei diritti fondamentali, che si impone anche per preservare la fiducia del pubblico nel principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di complicità o di tolleranza relativamente agli atti illegali. È ciò che dice la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel nostro Codice di procedura penale, nelle nostre leggi, è di tutta evidenza che il ruolo della vittima abbia finito per perdere sempre più rilevanza. E ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro Codice, della nozione di vittima. Laddove vengono usate parole come persona offesa, offeso, offeso dal reato, vi è invece la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole. È fondamentale che il processo penale sia un concreto ed effettivo strumento per la soddisfazione delle istanze di giustizia delle vittime del reato. Vittima è un termine diverso da persona offesa. Vittima significa sofferenza, dolore, significa posizione di chi è perseguitato, maltrattato, aggredito, ma non solo fisicamente. Di chi soccombe all'altru inganno e prepotenza, di chi subisce una sopraffazione, venendo comunque oppresso. Le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore sul piano del diritto penale, e non solo rispetto alla salvaguardia delle garanzie dell'accusato, ma anche alla tutela e alle garanzie della vittima. La Direttiva 2012-29 dell'Unione Europea, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, afferma che un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. E qui assume rilevanza la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, che obbliga gli Stati appunto a rendere penalmente rilevanti quelle condotte lesive dei più importanti tra i beni fondamentali. E soprattutto ai doveri di carattere procedurale che prescrivono ai Paesi contraenti indagini, come ho detto, ma anche di arrivare alla fine delle indagini ad un processo che abbia una sentenza, che accerti, che individui, che afferma nel caso Petrella contro Italia, i giudici di Strasburgo hanno addirittura condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 6, in quanto la vittima non aveva potuto costituirsi parte civile nel procedimento penale a causa del sopraggiungere del termine della prescrizione del reato. La prescrizione è la negazione di questo diritto proprietario di ogni Paese. Con la riforma operata dal Governo Conte, con la legge numero 3 del 2019, con la cosiddetta spazzacorrotti, si è intervenuti per sospendere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Si è ritenuto anche in conformità agli orientamenti della giustizia europea che la prescrizione pregiudicasse fortemente le istanze delle vittime del reato, che rimanevano inascoltate quando per il decorso del tempo il verificarsi della causa estintiva non ottenevano un accertamento definitivo della verità. Con la prescrizione si attua la denegata giustizia, che mina fortemente la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti. E quando lo Stato è incapace di tutelare i propri cittadini per i ritardi della giustizia penale, si accresce il convincimento che vivere onestamente sia inutile, che rispondere alla violenza con la violenza sia l'unico mezzo per sopravvivere, perché lo Stato non ha i mezzi per intervenire. Quale disperazione coglie i cittadini onesti vittime di reati? Ed è compito della politica guardare a questa fascia di cittadini, che è la più vasta ed è la più bisognosa di protezione. Il meccanismo della prescrizione è stato troppo a lungo utilizzato come occulto e mirato fattore di deflazione del carico degli uffici giudiziari. Per anni, in assenza della volontà politica di potenziare gli organi della magistratura, si è lasciato che la deflazione fosse l'effetto della prescrizione, un effetto distorsivo dell'Istituto della prescrizione. E questo effetto ha determinato l'intasamento delle corti d'appello e al parziale svilimento dei riti speciali. Ma chi sceglie un rito speciale quando sa che facendo decorrere il termine di prescrizione comunque quel processo si estingue? Ma quale responsabile di reato non farà di tutto per portare il processo alla lunga? E ho sentito gli interventi finora. Sono persone che sanno bene come si porta avanti il processo e cosa avviene nei processi penali. Quanto durano i processi? Processi che vengono portati avanti per l'eternità. Perché chi è responsabile non vuole essere condannato, perché quello è il suo interesse e il suo difensore farà di tutto perché si arrivi ad una sentenza di prescrizione del reato. È questo che si rileva nelle aule di giustizia. E questo è stato il motivo per cui si è arrivati ad una sospensione alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Non immediatamente, ma dopo la sentenza di primo grado. Quando già c'è un decisum, già c'è un qualcosa che ci proietta verso quello che è il contenuto del processo. Il giusto processo non è estinzione del processo per decorso del tempo. Questa è denegata giustizia. È incapacità o volontà di non perseguire i reati. E guardate, questo è gravissimo. Perché pensare che si possa non volere la punizione dei colpevoli credo sia la peggiore soluzione che si possa dare alla velocizzazione del processo. Il processo non può essere chiuso per il decorso del tempo. Il processo deve avere una decisione. La riforma del processo con l'Istituto dell'improcedibilità non ha certamente accelerato, anzi, tutt'altro. E anche qui vi è una tagliola. Due anni o un anno? Corte d'appello o Cassazione? La Commissione europea, nel report sullo Stato di diritto 2022, ha manifestato espressamente talune perplessità proprio rispetto alla fissazione di termini massimi per la conclusione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte Suprema di Cassazione. Pena l'improcedibilità. Le nuove misure rischiano di incidere negativamente sui processi penali, in particolare su quelli in corso, che potrebbero essere automaticamente resi improcedibili. Questo dice il report sullo Stato della nostra giustizia. Appare fondamentale e urgente superare il meccanismo dell'improcedibilità introdotto dalla riforma, ma al tempo stesso occorre mantenere la sospensione e la prescrizione, intervenire con riforme capaci ad attuare un processo rapido e giusto, a garanzia degli imputati, ma a tutela anche delle vittime dei reati, ponendo sulla bilancia i due oneri che ha lo Stato, che deve assicurare una sentenza giusta, non di prescrizione e improcedibilità, ma sulla responsabilità dell'imputato. Non vi sono progetti di questo tipo, Presidente. Non vi sono progetti di questo tipo, ma si parla solo di prescrizione, si parla solo di eliminazione di figure di reato. Non c'è una proiezione al contrasto e all'illegalità. Ma come fa il cittadino a garantirsi il futuro in legalità? Ma come farà un domani la prossima generazione ad andare avanti, senza che vi sia tutela? La procedibilità a querela è un altro punto su cui intervenire. Ed è un altro punto su cui intervenire, perché ancora una volta si rimette al cittadino la necessità di esercitare una propria volontà. Ancora una volta la recente riforma ha espresso e ha manifestato i suoi peggiori risultati ed effetti, introducendo quindi rilevanti modifiche sul regime della procedibilità. Non sono stati toccati però questa volta i reati bagatellari, cioè quelli che per la loro minima portata sono quasi irrilevanti, ma sono stati toccati reati gravi. Ma pensate il sequestro di persona procedibile a querela. Ma come? La libertà personale viene tolta e bisogna aspettare il soggetto che è stato sequestrato perché eserciti la querela, perché chiede allo Stato di intervenire. E altrimenti che fa? Resta in balia dei criminali? E nel caso di furto aggravato, pluriaggravato, se la persona è armata, la persona è travisata, se sono più di tre persone, se ci sono tante di quelli aggravanti che veramente fanno tremare, ecco, di fronte a tutte quelle aggravanti lo Stato non interviene, aspetta che il soggetto si esprima. Ecco, è intervenuto nel disegno di legge, questo disegno di legge sul quale abbiamo discusso in Commissione. Ma ancora una volta sembra che si parli al vento. Ancora una volta sembra, per la verità, che il confronto fra coloro che partecipano a queste discussioni non ci sia. Si parte con un disegno di legge, quel disegno di legge viene votato. Cosa fa la minoranza? Presenta delle opzioni? Ma che rilevanza hanno le opzioni della minoranza? Non si prendono proprio in considerazione. Non vi è un dibattito, non vi è un confronto, non vi è nessuno che dica, guarda, è sbagliato continuare a insistere sulla procedibilità d'ufficio. È meglio mantenere la procedibilità a querela. Però è tanto falso che è meglio mantenere la procedibilità a querela che si sente l'esigenza di intervenire con l'arresto in flagranza, senza che nemmeno vi sia la querela. Quindi il soggetto viene preso, portato in carcere o in camera di sicurezza, viene nel frattempo chiesto la convaglia, non si sa se ci sarà ancora la querela. È le risorse, la nostra polizia giudiziaria che deve correre e deve correre per arrestare il ladro, il sequestratore, l'autore di lesioni aggravate, di violazione di domicilio, lo arresta. Poi corre ancora perché deve cercare colui che può esercitare il diritto di querela, la persona offesa, la deve identificare, la deve trovare, la deve portare in ufficio, deve riempire i verbali. Ma cosa desideriamo noi? Ma lo vogliamo un po' di giustizia in questo nostro Paese? Ma come faremo noi ad avere protezione dalle forze di polizia se dovranno correre per il territorio a fare attività del tutto marginali e irrilevanti? Ma come si farà in futuro? Abbiamo sentito tutti i sindacati e tutti hanno detto che è un aggravio insopportabile, ma anche questo non ha importanza, perché sono cose che non interessano a nessuno probabilmente, ma nemmeno vengono fuori, nemmeno lo si sanno. Ora stiamo parlando in sette persone, quanti siamo? Otto, dieci? Ma delle nostre riflessioni chi lo sa? Non lo sa nessuno, ma questa è la preoccupazione dell'informazione. Io mi stupisco che si parli dell'informazione che arriva dalle indagini e dagli arresti, che ci si lamenta di questo. È giusto che vengano informati, perché bisogna che la gente sappia che i delinquenti vengono tratti in arresto, che violare la legge non conviene. Mantenere il sedenzo significa invece alimentare l'illegalità, perché si pensa che non c'è mai una sanzione, che se tutti d'accordo nel consentire la corruzione, nel consentire i reati di mafia, è meglio essere conniventi, complici, piuttosto che contrastare queste forme di delinquenza. Ecco l'impressione che se ne trae. Questa è l'impressione che se ne trae. Purtroppo è una grande tristezza, è veramente una sofferenza verificare ciò che avviene, queste discussioni senza senso, che non hanno un risultato, non hanno un obiettivo. Ed ancora, nel nostro ordinamento si parla di un codice rosso, ma quel codice rosso ha dato tante ulteriori difficoltà. Quante sono state le indagini? Tante di più. Tanti di più sono stati fatti che ne sono seguiti. Allora cosa significa? Che occorrono altre innovazioni, altre leggi più efficaci. C'è qualcosa che non funziona. Ci si accorge o no? Mi sembra di parlare veramente con i muri. Ma come? Non ci si accorge di quel che avviene. Come è possibile? Ma io penso che siamo tutti nello stesso Paese e vogliamo che la legalità venga affermata, che le regole vengono rispettate. Ma sembra che di questo non se ne occupi più nessuno. E guardate, quando parliamo poi di eliminazione di figure di reato, ancora una volta, cosa pensiamo? La altra grande innovazione, la proiezione di cui il Ministro della Giustizia ci ha parlato. Abroghiamo l'abuso d'ufficio. Ma come? È l'unica garanzia, l'unica tutela che ha il buon andamento della pubblica amministrazione, l'imparzialità della pubblica amministrazione. Sono garantite da questo reato. No, è un reato in cui si ha una discrezionalità. Ma quale discrezionalità? Ma non avete letto l'articolo allora che è stato modificato? Qui si parla di norme di legge, si parla di condotte specifiche che sono imposte da norme di legge, di fronte alle quali non esistono margini di discrezionalità. Questo dice la norma. Cioè chi viola volontariamente la norma perché non esistono margini di discrezionalità e quindi lo fa per un fine. E qual è il fine? Il suo interesse qual è? Quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Ma quale utilità? Ma quale vantaggio generico? Ma qui parliamo di atti vincolati per i quali non esiste la possibilità di scelta. E parliamo di un ingiusto vantaggio patrimoniale. Ma nemmeno questo va bene. Ma allora si vuole veramente che ci si muova nelle amministrazioni pubbliche nella più piena illegalità. Perché ciascuno faccia quel che vuole. Perché i sindaci possano operare senza rispettare le regole. Quelle regole che gli impongono un comportamento. Non quelle discrezionali. Quelle discrezionali non configureranno mai il reato. E anche questo non va bene. Perché? Perché si vuole eliminare. Perché la verità sa qual è, Presidente? L'ho visto nelle illustrazioni delle proposte di legge costituzionale. Che non si tollera il controllo di legalità. È scritto a caratteri cubitali. Quel che non si tollera è che il giudice e il pubblico ministero esercitano un controllo di legalità. È detto in quelle carte. Evidentemente è questo che non si tollera. E ancora, si parla di leggi che devono essere eliminate perché creano difficoltà. E qual è adesso questa? Il traffico di influenze. Il traffico di influenze che, come ben sapete, è una disposizione di legge che la nostra Convenzione, la Convenzione europea sulla corruzione impone. E lo descrive all'articolo 12, una Convenzione europea e parliamo di eliminarlo. Ma che diciamo? Ma ignoriamo tutto, Presidente. Questo è quel che veramente ci dà un grande dolore. Perché ne parliamo e continuiamo a dire le stesse cose. Ma è un muro di gomma questo, in cui le parole rimbalzano. E nessuno si vuole confrontare. Nessuno vuole leggere quel che realmente avviene. Presidente, prescrizione, improcedibilità, eliminazione delle figure di reato sono tutte cose che noi non possiamo tollerare. Non possiamo tollerare. Proprio per questo, Presidente, abbiamo presentato questa mozione. Una mozione che vorrebbe almeno che ci fosse unità di intenti per quanto riguarda gli strumenti che vengono utilizzati. È l'unico strumento contro l'illegalità effettivo, efficace. È l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, dello scambio di dati telematici. È il captatore informatico. Questi sono gli unici strumenti. Ebbene, anche questo si vuole ridurre. Perché? Perché la corruzione è un reato ordinario e quindi bisogna limitare le intercettazioni. Perché allora è bene che l'illegalità si diffonda? È questa la valutazione che deve avere il popolo italiano. Ma lo sa il cittadino quello che sta avvenendo in quest'Aula? Io credo che non lo sappia. Almeno io conosco. Conoscete tutti persone per bene, persone che osservano le leggi. Ma come possano restare indifferenti di fronte a quel che sta avvenendo? Si stanno eliminando figure di reato? Si parla di una procedibilità a querela con determinate interventi della polizia giudiziaria. Si è parlato, per quanto è riguardato l'ergastolo stativo, di forme che hanno sostituito quel divieto generale con interventi che consentono oggi ai mafiosi di beneficiare dei benefici penitenziari attraverso strumenti molto meno afflittivi e a condizioni molto più vantaggiose. Ecco cosa sta avvenendo, Presidente. Io spero veramente che il Governo voglia accogliere questa nostra mozione, che voglia ritenerla non come sempre avviene come una modalità, per la verità, solo di ostacolo al lavoro del Governo. Noi ci teniamo a confrontarci, soprattutto ci teniamo a dare un contributo, ma è un contributo di onestà. È un contributo attraverso il quale chiediamo che il Governo voglia effettivamente intervenire e come adottare quindi strumenti che siano utili a garantire l'efficacia di disposizione a presidio delle vittime, supporare l'istituto dell'improcedibilità, astenersi da qualsivoglia intervento volta a riformare la disciplina delle intercettazioni, intervenire per modificare il concordato ex articolo 599 bis, adoperarsi per dare seguito alle iniziative legislative già esistenti in materia di procedibilità di ufficio, ampliando e ritornando al passato per quei gravissimi reati, non intervenire sul reato di abuso d'ufficio né sul traffico illecito di influenze, rispettare integralmente il titolo quarto della Costituzione laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri, tornare ad investire il comparto di giustizia per rinunciare il rapporto tra giustizia e cittadino. Grazie Presidente, ho concluso.